Istituire il policlinico a Caltanissette, impegnare l'amministrazione a vigilare per un eventuale adeguamento dell'ospedale Sant'Elia la normativa vigente su idea di secondo livello. Questi punti cardine del documento redatto durante il consiglio comunale, tematico e votato dalla Sise Cittadino ieri sera. Inoltre lo stesso documento sarà sottoposto a tutti i consigli comunali della provincia e per l'approvazione anche alla conferenza dei sindaci per la sanità. Un dibattito che ha preso il via con l'introduzione del sindaco Roberto Gambino sulle segesi della nascita della vicenda policlinico come opportunità che stava per essere collocata a Enna. Non interventi campanilistici ma di opportunità nei confronti della città e del territorio. Un lungo dibattito dove le posizioni sono state differenti tra maggioranza e opposizione e anche all'interno della stessa opposizione, con alcuni interventi che avrebbero necessitato di un ulteriore approfondimento di studio da parte dei consiglieri a tratti superficiali. La lettura delle carte induce alla conoscenza dei temi, soprattutto se si parla di un argomento così complesso come quello del policlinico ed in realtà della lottizzazione della sanità. Si deve vigilare sul Sant'Elia e uscito da più parti affinché non venga depotenziato. Ma in una grande macendonia di contenuti si è parlato di tutto un po', dalla dieta mediterranea alle specialistiche che mancano al Sant'Elia e che esistono solo sulla carta. Niente, non una parola contro Enna, non una parola inneggiante alla guerra tra province, tutto sommato un consiglio composto a favore e non contro. L'idea del policlinico diffuso bocciata su tutte le ruote. Più volte e in più interventi è stato sottolineato il ruolo centrale del CEFPAS nel progetto. Nella consapevolezza che la legislatura regionale è finita, ma come ha detto il sindaco nell'intervento di chiusura, che nei meandri della finanziaria nottetempo può accadere di tutto.